Cardio PHA senza salti, 3 blocchi di lavoro a difficoltà crescente e 2 blocchi cardio con intensità medio-bassa. Vamos! Iniziamo! Tallone e glutei. Ci prepariamo a questo super allenamento, ma prima facciamo un super riscaldamento. Vamos! Salgo bene, scaldiamo bene tutta la parte bassa, tutta la parte alta. 3, 2, 1, cambio, torsione del tronco, andiamo ad attivare la zona centrale del corpo, il core, respiro, mi giro a destra e a sinistra, piano piano senza forzare, siamo in fase di riscaldamento. 3, 2, 1, cambio, spinte dietro, vai, scaldiamo le braccia, la schiena, respiro. Sempre respirazione naso e bocca, vai, respiro. Esercizio successivo, pectoral più spinte. 3, 2, 1, vai, scaldiamo. Pettora più spinte. Scaldiamo bene le pettorali, le braccia, le spalle. Respirazione, vai. Ancora qualche secondo e passiamo al passo laterale più calciata. 3, 2, 1, vai. Ci spostiamo da un lato, passo laterale e calciata. Vai. Passo laterale, calciata, passo laterale, calciata, respiro. Vai. Esercizio successivo, sumo squat più elevazione braccia. 3, 2, 1. Sumo squat, elevazione delle braccia. Vai. Respirazione. Sguardo in avanti. Allargo le gambe e allargo le punte. Punte aperte. Elevo le braccia. Vai. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Cambio. Apertura laterale delle gambe. Destra e sinistra. Attiviamo esterno coscia. Gluteo. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Esercizio successivo. Mezzo squat veloce. 3, 2, 1. Cambio. Mezzo squat veloce. Attiviamo gambe e glutei. Vai. Respiro. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Vai con lo step touch e iniziamo questo super workout. Esercizio successivo. Pugno incrociato a destra e a sinistra. 10 secondi. Respiro col naso. Butto fuori con la bocca. Vai. 3, 2, 1. Vai. Pugno incrociato. Addome forte. Pugno a destra e a sinistra. Lavoro anche sulle gambe. Rapidità, velocità e agilità. Vamos. Pam. 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 Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Calciata e salita al mento. Respiro. Mantengo il ritmo. Vai. Da un lato e dall'altro. Ancora. Esercizio successivo. Skip incrociato. 3, 2, 1. Cambio. Skip incrociato. Vai. Salgo bene col ginocchio. Da un lato e dall'altro. Salgo. Salgo. Ginocchio al petto. Vamos. Salgo molto. Vai. 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 3, 2, 1. Step touch. E poi passiamo ancora al pugno incrociato. Destra e sinistra. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Pugno incrociato. Velocità. Reattività. Lavora anche sulle gambe. Vai. 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 Respiro. Fino alla fine. Non rallentare. 3, 2, 1. Calciate i glutei. Vai. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Gomito ginocchio più pugno. 3, 2, 1. Vai. Gomito ginocchio. E pugno. Iniziamo da un lato. E poi cambiamo lato. Vai. Pam. 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 Ancora. Respiro. 3, 2, 1. Cambio subito. Dall'altra parte. Vai. Sincronizza il movimento. Gomito ginocchio opposto. E pugno laterale. Vai. Vamos. Ancora. Rapidità. Velocità. Coordinazione. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e sinistra. Approfitto dello step touch per respirare. Naso e bocca. Respirazione. Esercizio successivo. Passo indietro. Incrociato. 3, 2, 1. Vai. Passo indietro. Incrociato. Respiro. Faccio lavorare le braccia. Vai al centro in avanti. Vai. 10 secondi. Non ti fermare. Vai. Vai. Respiro. 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. E ci prepariamo l'esercizio successivo. Ginocchio su. 3, 2, 1. Iniziamo. Prima da un lato. Vamos. Tocco dietro e salgo. L'altra gamba molleggia. Lavoro sulle braccia. Vai. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Non rallento. 3, 2, 1. L'altra gamba. Vai. Cambio la gamba. Solo dall'altra parte. Respiro. Tocco dietro e salgo. Tocco dietro e salgo. Vai. Respirazione. Resisti. Fino alla fine. 3, 2, 1. Cambio. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Respirazione. Esercizio successivo. Jumping jack molleggiato. Tra. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Jumping jack molleggiato. Vai. Respirazione. Ritmo. Sali bene con le braccia. Molleggiamo con le gambe. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Skip ingrociato. Salgo bene con il ginocchio. Vai. Vai. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Vamos. Ancora. Bruciamo calorie. Tonefichiamo. Rassoddiamo. Aumentiamo la nostra massa magra. Vai. Recupero attivo. Prendiamo un pesetto. E partiamo subito con le spinte in alto un braccio. 3, 2, 1. Vai. Spinte in alto. Solo da un lato. Allargo il braccio. Allargo le gambe. Piego leggermente le gambe per scaricare il peso a terra. Non sulla schiena. Vai. Vai. Respiro. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo il pesetto a terra. E alterniamo con uno squat completo. 3, 2, 1. Allargo bene le gambe. Scendo. Squat completo. Vai. Scendo bene. Finché il gluteo non è in linea con il ginocchio. Vai. Respiro. Attiviamo gambe glutei. Vai. Su. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ancora pesetto. Per fare spinte in alto su un braccio dall'altro lato. 3, 2, 1. Vai. Piego leggermente le gambe per scaricare il peso a terra. Addome forte. Mantengo lo sguardo in avanti. Respiro. Vai. Vai. Qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Mezzo squat più apertura. Più skip. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat apertura. E skip. Mezzo squat apertura. E skip. Respiro. Sincronizzo bene i movimenti. Vai. Ancora. Su. 3, 2, 1. Recupero attivo. Due pesetti. Per il martello più spinte. 3, 2, 1. Vai. Martello più spinte. Respiro. Piego leggermente le gambe. Addome forte. Vai. Testa dritta. Attiviamo braccia. E deltoidi. 3, 2, 1. Cambio. Ancora. Mezzo squat apertura. E skip. Solo da un lato. Andiamo a lavorare dall'altra parte. 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat apertura. Skip. Mezzo squat apertura. Skip. Vai. Respiro. Pam. Pam. Mezzo squat apertura. Skip. Skip. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Un pesetto. Per tricipiti doppia mano. 3, 2, 1. Vai. Cerco di mantenere i gomiti semi chiusi. Vai. Piego le gambe. Attiviamo. Tricipiti. Respiro. Sguardi in avanti. Sguardi in avanti. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Affondo indietro alternato. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro alternato. Gamba destra. Gamba destra e sinistra. Respiro. Affondo indietro. Il ginocchio su ora al pavimento e risalgo. Vai. Non ti fermare. Respira. 3, 2, 1. Recupero attivo. Prendiamo il tappetino. Lo avviciniamo. Pesetti. 3, 2, 1. Vai. Gambe unite. Piego leggermente. E andiamo a fare i bicipiti. Respirazione. Vai. Vai. Testa dritta. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il peso a terra. Mezzo squat con sollevamento laterale della gamba. 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat. Sollevamento da un lato. Mezzo squat. Sollevamento dall'altro. Vai. Continuo il movimento. Respiro. Mezzo squat. Sollevamento. Mezzo squat. Sollevamento. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Scendiamo a terra. Prendiamo i pesetti. Tricipiti da terra. Appoggio bene la schiena. Aderente. Blocchiamo i gomiti. 3, 2, 1. Vai. Addome contratto. Blocco i gomiti. Attiviamo i tricipiti. Vai. Sangue scendo. Sguardi in avanti. Respirazione. Ancora qualche secondo. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggio i pesetti. E passiamo al ponte. Schiena bene aderente a terra. Braccia sui lati. 3, 2, 1. Vai. Salgo. Contrago i glutei. Scendo. Respiro. Attiviamo i glutei. Vai. Controlla il movimento. Non andare troppo veloce. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendiamo i pesetti. Per eseguire le croci da terra. Schiena aderente. Gambe in sicurezza. 3, 2, 1. Vai. Cruci da terra. Attiviamo petto e braccia. Respiro. Apro. Prendo aria. Naso. Chiudo bocca. Ancora qualche secondo. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo a ponte ad una gamba in appoggio. schiena. Schiena bene aderente a terra. A cavallo una gamba sull'altra. 3, 2, 1. Scendo e salgo lentamente. Controlo il movimento. Attiviamo ancora il gluteo. Attiviamo ancora il gluteo. Vai. Respiro. Ancora 10 secondi. Non ti fermare. Vai. 3, 2, 1. Recupero. Alterniamo con spinte da terra. Prendiamo i pesetti. Gomiti più o meno in linea con le spalle. 3, 2, 1. Vai. Spinte da terra. Addome contratto. Sguardo in avanti. Controlo il movimento. Vai. 10 secondi. Non ti fermare. Ancora. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Ritorniamo sul ponte ad una gamba in appoggio. Cambiamo la gamba, ovviamente, dall'altro lato. Vamos. 3, 2, 1. Vai. Sali e scendi. Controli il movimento. Respira. Sali bene. Controli il movimento. 10 secondi. E poi facciamo un recupero attivo. E togliamo il tappetino. 3, 2, 1. Ok. Spostiamo il tappetino. Ritorniamo in piedi. E ripartiamo con bicipiti a martello con la doppia salita. Vai. 3, 2, 1. Vai. Piego le gambe. Bicipiti a martello. Doppia salita. Testa dritta. Postura. Addome forte. Vai. Gomiti. Vicino ai fianchi. Ancora. Piego leggermente le gambe. Scarico il peso a terra. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Affondi indietro. Solo gamba destra. Andiamo a lavorare solo sulla destra. 3, 2, 1. Vai. Affondi indietro. Solo gamba destra. Utilizza le braccia per migliorare il movimento. Riacquisire un ottimale equilibrio. Respiro. Ancora 10 secondi. Vai. Vai. Solo una gamba. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendiamo i pesetti. Per il martello. Più spinte. Piego le gambe. Sguardo in avanti. 3, 2, 1. Vai. Martello. Più spinte. Bicipiti. E spalle. Vai. Respiro. Ancora. Non ti fermare. Mantieni il ritmo. Ancora. Qualche secondo. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ritorniamo sull'affondo indietro. Ora abbiamo l'affondo indietro solo della gamba sinistra. Attiviamo solo il lato sinistro. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro. Solo la sinistra. Vai. Scendo bene. Ginocchio sfiora il pavimento. E le sali. Utilizza le braccia nel movimento. Vai. Non perdere l'equilibrio. E respira. Guardi in avanti. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendiamo i pesetti. Esercizio successivo. Spinte in alto a martello. Piego leggermente le gambe. 3, 2, 1. Vai. Piega le gambe. Spinte in alto a martello. Respiro. Testa dritta. Vai. Allargo le gambe. Piego le ginocchia. Vai. Ancora. Qualche secondo. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo i pesetti. E ci prepariamo al mezzo squat più calf. Andiamo a attivare i polpacci con il calf. 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat. Salgo. Calf. Mezzo squat. Salgo. Calf. Vai. Respiro. Mezzo squat. Salgo. Calf. Mezzo squat. Salgo. Calf. Vai. Salgo bene. Sui polpaccio. 3, 2, 1. Recupero attivo. Un pesetto solo. Per eseguire tricipiti un braccio. Piego bene le gambe. 3, 2, 1. Vai. Tricipiti un braccio. L'altro braccio è sul ginocchio per la stabilità. Allungo bene dietro. Attiviamo il tricipite. Vai. Fino alla fine. Non mollare. Ancora. Qualche secondo. Pam. Pam. 3, 2, 1. Respiro. Mezzo squat più calciata. Ci prepariamo. Respiro sempre. Inspiro col naso. Espiro con la bocca. 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat calciata. Mezzo squat calciata. Vai. Molleggio. Vai. Attiviamo gambe glutei. Movimento continuato. Non rallentare. Manteniamo il ritmo. Ancora. Vai. Vai. 3, 2, 1. Sciogli. Tricipiti un braccio. Andiamo a lavorare dall'altra parte. Respiro. Piego le gambe. Mano sul ginocchio. 3, 2, 1. E distendo dietro. Vai. Respirazione. Attiviamo il tricipite. Vamos. Vai. Ancora. Pam. Pam. 10 secondi. Vai. Fino alla fine. Non ti fermare. 3, 2, 1. Recupero attivo. Squat. A fondo laterale alternato. Da un lato e poi dall'altro. Respiro. E ci prepariamo. 3, 2, 1. Vai. Fondo laterale alternato. Squat. E vado dall'altro lato. Vai. Pam. E riparto. Pam. E riparto. Vai. Da una parte. E poi dall'altra. Vai. Respiro. Controllo il movimento. Vai. Pam. E dall'altra parte. Non ti fermare. 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendiamo i pesetti. Alzate. Laterali. 90 gradi alternate. Prima da un lato. E poi dall'altro. Piego le gambe. 3, 2, 1. Vai. Prima da una parte. E poi dall'altra. Controllo il movimento. Piego le gambe. Sguardo in avanti. Testa dritta. Vai. Da una parte. E poi dall'altra. Vai. Respiro. Ancora. Qualche secondo. Mantieni le braccia a 90 gradi. sali col gomito. 3, 2, 1. Recupero attivo. Esercizio successivo. Affondo laterale. Più tocco il tallone. Attiviamo gambe e glutei. Solo da un lato. 3, 2, 1. Vai. Scendo. Salgo. E tocco il tallone. Vai. Pam. Respiro. Utilizzo le braccia per migliorare l'equilibrio. La gamba che va in affondo. La punta leggermente aperta. Vai. Spingo bene sulla gamba. Salgo. E tocco il tallone. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendiamo i pesetti. Bicipiti a martello continui. 3, 2, 1. Vai. Movimento continuo. Per i bicipiti a martello. Attiviamo le braccia. Piego leggermente le gambe. Mantengo l'addome forte. Vai. Respiro naso. Espiro bocca. Bocca. Vai. Ancora. Non ti fermare. Fino alla fine. Vamos. 3, 2, 1. Dall'altra parte abbiamo affondo laterale più tocco il tallone. 3, 2, 1. E riparto. Vai. Bella. Affondo laterale. Salgo. E tocco il tallone. 3, 2, 1. Per migliorare il mio equilibrio. Vai. Ancora. Respiro. Bella fondo. Laterale. Salgo. Tocco. 3, 2, 1. Recupero attivo. Alzate in elevazione. 3, 2, 1. Vai. Controllo il movimento. Molto importante piegare le ginocchia per scaricare il peso a terra. Testa dritta. Addome contratto. Vai. Attiviamo i deltoidi, il trapezio. Braccia, spalle. Vai. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Manteniamo i pesetti per eseguire il goblet squat. Con peso al petto. 3, 2, 1. Vai. Allargo bene le gambe. Goblet squat. Respiro. Controllo il movimento. Attiviamo gambe glutei. Peso al petto. Vai. Respiro. Ancora. Vai. Non ti fermare. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Pugno incrociato a destra e a sinistra. 3, 2, 1. Vai. Pugno a destra e a sinistra. Vai. Incrociato. Respiro. Addome contratto. Faccio lavorare le gambe. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Vai. Gomito e ginocchio opposti. Vai. E pugno. Pam. Pam. Respiro. Mantieni il ritmo. Non ralentare. Spingi fino alla fine. 3, 2, 1. Vai. Calciata dietro. E ci prepariamo. Gomito e ginocchio più pugno. Cambio lato. 3, 2, 1. Vai. Cambio. Pam. Pam. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Vai. Non ralentare. Mantieni. Qualche secondo. E passiamo al passo incrociato dietro. 3, 2, 1. Vai. Passo incrociato dietro. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Senza salto. A bassa intensità. Respirazione. Faccio lavorare le braccia. 3, 2, 1. Cambio. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Ci prepariamo al ginocchio su. 3, 2, 1. Solo da un lato. Vai. Salgo bene. Mantengo il ritmo. E respiro. Faccio lavorare le braccia. 10 secondi. E poi cambio lato. Sempre il ginocchio su. Dall'altra parte. Vai. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Dall'altra parte. Vai. Molleggio con l'altra gamba. Tocco con la punta dietro. E salgo. Ginocchio su. 10 secondi. E passiamo allo step touch. Vai. Veloce. Non rallentare. Mantieni il ritmo. 3, 2, 1. Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Esercizio successivo. Jumping jack molleggiato. 3, 2, 1. Vai. Jumping jack molleggiato. Molleggio. Con le gambe. Con le braccia. Movimento del jumping jack. Respiro. E levo in alto le braccia. Vai. 3, 2, 1. Skip incrociato. Vai. Sali bene col ginocchio. Su. Su. Ginocchio al petto. Dai. Non ti fermare. Non rallentare. Che ci siamo. Su. Su. Vamos. Ancora. Ancora. Dai. Sali. 3, 2, 1. Ottimo lavoro. Siamo arrivati alla respirazione, allo stretching. Allargo le gambe. Vai. Inspiro col naso. Trattengo. Inspiro con la bocca. Ancora. Naso. Bocca. 3, 2, 1. Allungamento più trazione del braccio. Vai. Senza forzare. Trazione il polso. Ci spostiamo leggermente in allungamento laterale senza forzare. Mantengo la posizione di stretching e respiro. 3, 2, 1. Cambio. Dall'altra parte. Senza forzare. Trazione il polso. Mantengo la posizione di stretching e respiro. Allungamento laterale tra 3, 2, 1. Lascio piano piano. Scendo da un lato. Vivico con le mani. Salgo con la punta. Se riesco allungo e vado a toccare la punta del piede. Altrimenti dove arrivo mantengo la posizione e respiro. 10 secondi e cambiamo lato. Respirazione. Ancora 3, 2, 1. Cambio. Piano piano. Aiutati con le braccia. Posizione. Se riesco vado a prendere la punta. Mantengo la posizione di stretching e respiro. Esercizio successivo di varicata frontale. 3, 2, 1. Risalgo. Allargo bene le gambe. Mantengo la varicata frontale. Braccia giù. Dove arrivi. Mantieni la posizione senza forzare. Testa rilassata. Respira. Respira. 3, 2, 1. E si risale. Ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Consiglia i nostri video ai tuoi amici. E seguici su Facebook e Instagram. Vamos! Ciao! 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 Grazie a tutti.